Vi anticipo che nel fine settimana di ottobre noi chiuderemo tutto alle 22 e il fine settimana di Halloween. Halloween è questa immensa idiozia, questa immensa a stupida americanata che abbiamo importato anche nel nostro paese. Ecco, Halloween è un monumento alla imbecillità. Bene, siccome noi dobbiamo fare i conti con la realtà e siccome sento che si stanno già preparando a fare le feste, dalle 22 il fine settimana di ottobre si chiude tutto e sarà il coprifuoco, non sarà consentita neanche la mobilità. Probabilmente prenderemo decisioni di blocco della mobilità dopo la mezzanotte anche nei prossimi giorni.